Musica Weeey, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi abbiamo un sacco di news incredibili riguardanti i prossimi giorni di Fortnite. E non solo delle news ragazzi, ma abbiamo anche un pezzo di un filmato che vi farà rabbrividire. C'è ragazzi una roba che dovete assolutamente vedere. Nel video di oggi ragazzi infatti parleremo della skin segreta che è stata svelata e non si sa come negli open coreani di qualche giorno fa dove vi avevo già anticipato prima. Parleremo ovviamente della patch 7.1, quella che arriverà probabilmente questo martedì e che sarà molto molto importante ai fini del fix di un bel po' di bug e di alcuni elementi che sono stati introdotti in questa season. E ovviamente non mancheranno le curiosità e i leaks sulle nuove skin che molto presto arriveranno nel nostro Battle Royale. Vi ricordo sempre però ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi al canale, mi raccomando, e di attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento, nessuna news su Fortnite. Ma prima ragazzi la domanda ve la devo fare, ve la devo fare perché sono troppo curioso di saperlo. Abbiamo già visto che il signor Rahman l'aveva già fatto. Ragazzi la domanda è qua, avete scioppato la nuova skin ragazzi, quelle che sono uscite ieri? Se sì, quale avete scioppato? Scrivetemelo ragazzi qua sotto nei commenti, mi raccomando perché sono proprio curioso di sapere se anche voi l'avete presa e perché lo avete fatto. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, partiamo subito ragazzi a parlare di una cosa importantissima. Parliamo delle zipline, o meglio, degli aggiornamenti che verranno fatti nella patch 7.1 che è in arrivo nei prossimi giorni di Fortnite. Un utente su Reddit chiede direttamente a un membro del team di Epic Games, Sin Hamilton, lui gli dice potreste per caso mettere un'opzione che si possa utilizzare il deltaplano qualora decidessimo di lanciarci a metà strada da parte da una zipline? Per dire, mentre sono su una zipline, sto andando da una montagna all'altra, mi stanno sparando. Io non è che posso farmi sparare, l'unica cosa è che ho salto e riprendo la zipline, ma posso per caso riaprire il deltaplano? E lui dice, abbiamo innanzitutto ascoltato la tua domanda perché è interessante, ti diciamo solo che ci saranno un sacco di nuovi aggiornamenti riguardanti la zipline. Sicuramente fixeranno ragazzi il bug dell'audio, ogni tanto si sente la zipline che va anche se in realtà non sta andando e probabilmente scopriremo delle grandi novità che anche io non vedo l'ora assolutamente di sapere quali siano. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di una cosa, intanto questa non so bene perché sia qua, ne parliamo, ok cosa ci fai te qua? Cosa ci fai? Vabbè parliamo allora ragazzi, come vi avevo già detto, ve l'ho detto sto imparando a fare le cose, saltano le immagini a caso, va bene, fa niente. Parliamo ragazzi della nuova skin che vi avevo già anticipato ieri, quella del Love Ranger invernale, come vi avevo detto ragazzi, oltre ad essere stata trovata, sono finalmente apparsi anche nei codici sorgenti gli spaccati come li chiamiamo noi nel senso, quindi la skin aperta in poche parole. E la cosa molto particolare ragazzi, come potete vedere, è che manca la testa ragazzi. Come vi avevo detto e come abbiamo visto tutti, la skin che vi ho presentato era stata montata sul modello di Pietro, quindi del Love Ranger, ma in realtà la testa non è ancora presente ufficialmente, quindi molto probabilmente ragazzi, qua andiamo a notare proprio i particolari, che probabilmente potrebbero renderla una skin reattiva, non sappiamo bene come, ma ragazzi la cosa incredibile è che in realtà non è stata appunto inserita la testa, quindi non sappiamo bene se possa essere modificata e resa più verosimile ad un'ambientazione invernale oppure cambierà completamente, non lo sappiamo ragazzi, o magari semplicemente sarà uno stile personalizzabile che come già abbiamo visto si baserà sulla testa e sul corpo del nostro Love Ranger. Vi voglio far vedere anche ragazzi altri due, altre due skin, il Cavaliere e il Raven, non sappiamo se siano ufficiali ragazzi quelle che state per vedere, prendete gentilmente con le pinze le prossime immagini, però è molto probabile ragazzi che, intanto se per caso facevo partire il gameplay era anche figo da vedere qualcosa dietro che si muoveva, perfetto, GG, eh ma imparerò il raga non preoccupatevi, ecco qua ragazzi queste sono cose che vengono proposte dai leakers in giro per il web, non lo sappiamo, ci assomigliano sicuramente ragazzi, assomigliano sicuramente a quello che potremo vedere, prendiamolo con le pinze come vi ho detto e c'è anche ragazzi ovviamente lo scudo, quindi il backpack del Cavaliere che se fosse veramente così sarebbe davvero fighissimo, però ragazzi parliamo in realtà dello scudo, quindi del backpack, perché abbiamo, sappiamo ragazzi, sappiamo che ci saranno le skin sia quella del Cavaliere che quella del Raven, ma sappiamo anche che modificheranno anche i backpack, perché c'è la seconda riga di quello che state vedendo ragazzi, parla appunto di una stringa di codice che è presente nella cartella delle skin di Fortnite e fanno vedere come esistono di già due voci chiamate Red Knight Winter Female e Raven Winter, quindi ragazzi sono i due, ovviamente nella cartella backpack, sono i due backpack ragazzi che verranno aggiunti e che saranno nuovi e quindi saranno ovviamente nello stile della skin, dobbiamo solo aspettare che queste arrivino, ma andiamo avanti ragazzi e parliamo appunto della skin segreta e successa una cosa incredibile, davanti a centinaia di migliaia di persone, magari ragazzi non lo sapete, se non lo sapete ve lo dico io ragazzi, allora sono iniziati qualche giorno fa i Corea Open, il Fortnite Corea Open del 2018, dove hanno partecipato la maggior parte degli streamer mondiali, diciamo che oltre ad essere parte, oltre ad aver preso parte dei giocatori forti, hanno anche invitato streamer da milioni di iscritti, ovviamente e tra gli streamer non poteva mancare il signor Tfue, chiamatelo un po' come volete ragazzi, insomma ragazzi Tfue è stato chillato da questa persona, non voglio dirvi altro, non voglio dirvi altro, guardate ragazzi, guardate, questo è proprio uno spezzone, guarda la faccia di Tfue del tipo dietro adesso, guardate che skin sta usando, il tipo dietro non ci può credere, e Tfue non si è ancora reso conto, oltre aversi mangiato le unghie, di quello che sta succedendo, ragazzi, ragazzi, avete capito quello che è successo, viene chillato da uno che si chiama K.O. Haim Hero, già il nome dice tutto ragazzi, e questo tizio ha una skin che non è mai stata rilasciata da nessuna parte, non è possibile raga, guardate, guarda Tfue non ci riesce, il tipo dietro non riesce a crederci, ma neanche Tfue riesce a crederci, guardate ragazzi, stiamo parlando della skin, non sappiamo neanche il nome in realtà di questa skin, quella che fa parte del pacchetto dell'NVIDIA GeForce, quella come si dice, il set è questo qua ragazzi, insomma lo conosciamo tutti, abbiamo visto, ho provato a vederle anch'io in game, alcune skin, come si dice, dell'NVIDIA GeForce del pacchetto, ma ragazzi, la skin che vi ho fatto vedere poco fa non è mai stata rilasciata, non ce l'ha nessuno, e quindi non si riesce a capire come questo K.O. Haim Hero chi sia innanzitutto, perché non lo sanno, come abbia chillato Tfue, è quasi palese che fosse un hacker, ma la cosa davvero allucinante ragazzi, e qua penso che apriranno un caso, comunque ci succederà qualche cosa, è che Epic Games non ha mai rilasciato da nessuna parte questa skin, chi ottiene, chi compra la GeForce, la 1060, la 1070 e la 1080, ha la skin maschile, non ha quella femminile, non si sa nulla di questa cosa, è una roba pazzesca, che ovviamente in Italia chissà fra quanto lo diranno, spero di essere il primo a dirla, e ci tenevo davvero tantissimo a farvela sapere, perché secondo me ne parleremo ancora, cercheremo di capire chi è questo K.O. Haim Hero. Beh ragazzi, io direi che per oggi è davvero tutto, voglio ringraziarvi tantissimo per aver guardato questo video, dai che sto imparando a muovere i comandi, con le mani, garantisco che non è assolutamente facile, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo presto, ciao! Non parte l'altro, non parte l'altro? Non parte l'altro, non parte l'altro, non parte l'altro, beh iKI li ulyo,